ciao ragazzi stiamo andando a Sestola e ci siamo dovuti fermare perché guardate cosa c'è c'è il pastore guardate che meraviglia con le pecore che sono al palo ragazzi questo è l'invasione delle pecore bellissimo siamo stati invasi dalle pecore ragazzi non mi ero mai capitato a vedere un greggio guardate tutte le pecore è uno spettacolo e e e e e e e e e